Musica Appassionati del mondo dei motori, benvenuti a una nuova puntata di Motor Style. Come sapete noi seguiamo da un paio di mesi a questa parte le sorti del gruppo Napoli Moto ed è venuto a trovarci nei nostri studi un rappresentante, Franco Fumagalli. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora Franco, Napoli Moto cosa rappresenta per te? Beh diciamo che rappresenta quello che è la mia passione, ho incontrato queste persone che avevano questo progetto a cui mi sono inserito in questo progetto in un secondo momento dopo che già era stata fondata. Diciamo che io ho tanti anni che ormai ho questa passione per la moto. Quanti anni hai? Io ne ho 42, vado in moto da che ne ho 20 quindi sono un motociclista di lungo corso. Navigato? Sì, sì, decisamente. Dicevi del progetto Napoli Moto che ti ha coinvolto dopo che è nato? Sì, in effetti questo gruppo di persone che cercano di diffondere quello che è una cultura, un sentire la motocicletta corretto. Che diciamo a Napoli a volte la moto è interpretata in modo un po' sbagliato. Che significa modo corretto? Ma diciamo che andare in moto essenzialmente è oltre che un modo di essere, è un modo di divertirsi, di stare insieme. A Napoli la moto viene spesso interpretata come un oggetto, uno status, qualcosa da esibire con cui magari fare spacconate. In maniera anarchica. Sì esatto, molto anarchica e quindi diciamo secondo me c'è bisogno anche di un'educazione in questo senso per quello che concerne l'utilizzo della moto, anche perché la moto come tutti i veicoli, ma in particolare la moto, può trasformarsi in un'arma, in un pericolo, di conseguenza bisogna farne un utilizzo corretto. Allora, le moto, sappiamo, regalano tantissime emozioni, però sono capaci anche al tempo stesso di essere degli strumenti pericolosi, quindi vanno guidate con il cervello. Sì, certamente. Bisogna essere coscienti di quello che si fa, perché comunque oltre che mettere in pericolo la propria vita, si può mettere in pericolo anche quella di altri. E trovarsi in queste situazioni, a volte uno dice non mi ero reso conto, invece bisogna avere molta coscienza. Tu di quale disciplina sei appassionato del mondo delle birrote? Ma io sono molto appassionato, diciamo, della velocità, anche se ultimamente il mototurismo mi ha molto coinvolto, sì. Allora, mototurismo, credo che tu abbia una mototuristica, altrimenti… Sì, 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 diciamo, dalla supersportiva, quindi dall'utilizzarla saltuariamente in pista, sono passato anche perché condivido questa passione con mia moglie, quindi mototurismo in coppia, a fare viaggi. Chiaramente ci siamo allungati sempre di più, prima in Italia, poi abbiamo cominciato a fare mototurismo in ambito europeo, diciamo, da lì abbiamo cominciato a tralasciare la moto da pista, ecco. E quale moto ti accompagna in questi cammini? Ma fino adesso ho utilizzato, diciamo, un Kawasaki, un Versys, quindi una moto abbastanza versatile. Polietrica. Sì, esatto. Però poi, diciamo, con l'andare del tempo, con l'aumentare dei chilometri ha cominciato ad andare un po' costretta. Recentemente ho acquistato una Yamaha 1200, un Super Teneree. Ah, hai fatto in grande passo. Sì, sì, decisamente più prestante per quello che riguarda il turismo a lungo raggio. A mio avviso la Super Teneree è veramente il punto di riferimento del settore del Gran Turismo. Molti si buttano sulla BMW GS 1200, in realtà la trova una moto che non solo costa troppo per quello che offre, ma neanche tanto pratica per chi ha veramente voglia di macinare migliaia di chilometri, in relax e in sicurezza. Mentre la Yamaha Super Teneree, oltre ad essere comoda, robusta e affidabile, ha una linea che parla da solo, pertanto che è bella. E poi dopo è una moto che ti permette anche di essere utilizzata nel traffico urbano, con le dovute comunque contromisure. Sì, diciamo, è poco che ce l'ho, però comunque l'ho trovata molto agile. Ho avuto in passato modo di provare il BMW GS che effettivamente mi dava l'impressione di essere un po' in ingombrante. Questa, nonostante alla fine ne condivida la cilindrata e l'impostazione, sembra molto più maneggevole. Adesso vediamo come si comporterà nei lunghi viaggi. Parlami di qualche viaggio che ti è piaciuto di più, tra l'Italia e l'estero. Premesso che l'Italia è stupenda, tutta, in tutte le regioni. Infatti colgo l'occasione per lanciare un messaggio ai nostri telespettatori. Visitate l'Italia. L'Italia è come patrimonio culturale, artistico e storico la prima nazione al mondo. Spesso noi dimentichiamo di questo tesoro che abbiamo per recarci in zone lontanissime da casa nostra. Poi ritorniamo a casa e torniamo con quel senso di vuoto, mentre sono convinto che se iniziassimo a girare un po' di più le cittadine e le città italiane, a casa torneremo con un bel sorriso e in più avremo fatto girare la nostra economia. Ma guarda, per quello che è stata la mia esperienza, infatti chiaramente ho cominciato a girare prima l'Italia, poi mi sono allargato verso l'estero, anche perché bisogna essere consapevoli di quello che si ha, anche per apprezzare quello che hanno gli altri. Quindi io ho cominciato girando in Italia, in Italia ci sono posti, strade, motociclisticamente parlande, incantievoli. Quello che pecchiamo un po' con l'ambito della nostra nazione purtroppo sono le infrastrutture, in particolare qui al sud. Diciamo che qui magari fare una strada di montagna che può essere bella, magari si incontra l'asfalto rovinato, le cose così. Quello che bisogna riconoscere è superiore all'estero, per quella che è stata la mia esperienza, all'estero ma anche un po' al nord Italia, è la qualità delle strade, perché per esempio i passi montani, quindi con tutte le problematiche che ci si può incontrare di maltempo, neve, lì sono comunque tenute sempre in ottimo stato. Franco, qui ti trovi praticamente in un contesto dove, parlo di Napoli, della nostra città, se cadono due gocce d'acqua si paralizza un intero tessuto cittadino. Però ecco, questo discorso politico magari lo affrontiamo in un'altra sede, ritorniamo al mototurismo. Perché viaggiare su due ruote? Viaggiare su due ruote perché, diciamo, secondo me negli altri tipi di turismo l'obiettivo del viaggio è la meta, invece su due ruote la meta è, come dire, la scusa, che in realtà è il tragitto, la cosa interessante. Allora uno comincia a studiare il viaggio non solo in funzione della meta, ma anche del tragitto. Per esempio l'anno scorso siamo stati in Austria passando per diversi passi montani, quindi abbiamo fatto passi montani italiani, poi siamo andati in Svizzera, passi montani in Svizzera. Poca autostrada? Sì, decisamente, anche perché l'autostrada su due ruote è decisamente noiosa. Invece su strade statali, passi montani, curve, controcurve, al di là, magari anche nel discorso velocità, anche a 60, 70 all'ora è un altro modo di viaggiare. Indubbiamente. Poi tra l'altro voglio fare un altro appello, questa è una puntata degli appelli praticamente, a chi gestisce il pedaggio delle autostrade. È mai possibile che una due ruote debba pagare quanto paghi un'automobile, cioè due ruote usurano l'asfalto in maniera diversa rispetto a quattro, soltanto che quando si va al casello il motociclista deve pagare lo stesso importo di chi è automobilista. Sinceramente lo trovo un po' discriminante. Quella purtroppo è una lunga e vecchia storia, diciamo si è poco accorti in Italia al discorso motociclistico. Questa è anche un'altra differenza che ho notato rispetto ai paesi extraeuropei. Per esempio viaggiando in Austria, nell'area di Landek, è pieno di alberghi dove ci sono cartelli mototurista welcome. In Italia invece strutture per motociclisti o comunque dove il motociclista è ben visto. Può sentirsi a casa. Esatto, può sentirsi a casa. Sembra che sia un'idea che proprio non ci sia. Io credo che Napoli Moto stia facendo una politica che cambierà questo approccio della cittadinanza comune ai motociclisti. I motociclisti non sono affatto dei banditi, sono persone che amano la vita, che vogliono divertirsi e che soprattutto hanno una passione forte, quella appunto per la moto, che se vissuta nello giusto modo è una passione sana e non affatto pericolosa. Lasciamo adesso il mototurismo. Sai che è iniziato il mondiale superbike, hai visto le gare? Sì, abbiamo visto le gare in Phillip Island, è partito bene questo campionato superbike. Una pista bellissima, forse la più bella del mondo. Tra le più affascinanti sicuramente. È partito molto bene il campionato per le marche e i piloti italiani comunque. Ricordiamo come è andato a finire, Carlos Ceca ha vinto nelle due manche, Biaggi è arrivato due volte secondo e Melandi nella seconda manche è arrivato terzo dopo aver lungamente battagliato con Biaggi. Quindi i piloti italiani e i marchi italiani, Ducati e Aprilia, non possono lamentarsi. Secondo me invece la Ducati può avere sbagliato quella scelta di puntare tutto sulla MotoGP. Perché voglio dire, la superbike è stata per la casa di Borgo Panigale quella che le ha permesso di diventare la Ferrari delle due ruote. Praticamente il mondiale superbike che ci accompagna dal 1988 è un mondiale riservato alle moto derivate di serie. E tranne le prime due edizioni dove vinse Merkel alla guida di una Honda gestita da un team italiano, quello Rumi, dal 90 in poi il mondiale superbike è stata storia esclusiva del bicilindrico di Borgo Panigale. Sono state poche le vittorie delle case giapponesi. E dopo 20 anni rinnegare questa avventura, questo impegno sinceramente lo trovo sciocco e alla lunga poco lungimirante. Ma guarda, secondo me alla fine la Ducati ha dovuto fare una scelta dettata da quelle che sono le difficoltà economiche di questi tempi. E allora permettimi, tu su che cosa punti? Allora, sicuramente io avrei, diciamo, da appassionato, anche perché comunque la Ducati è stata anche la bandiera del mondiale superbike. Nel momento soprattutto in cui le case giapponesi l'avevano abbandonata avrei continuato a puntare in superbike. Però dopo aver visto la prima gara, dopo aver visto quella che è stato il rendimento della Ducati, c'è da dire che forse non sono impegnati in maniera ufficiale. Però ufficiosamente ci... Allora, aumenta il rammarico. Perché puntare su un pilota che ha sostituito la prima lettera del proprio nome con la consonante L, il MotoGP, dove invece tu hai una 1198, che è ancora oggi a mio avviso la moto più equilibrata, quella che ti permette di essere forte e veloce su quasi tutti i circuiti del campionato. Perché puntare tutto sulla MotoGP, un campionato dove, ricordiamo, ti vai a scontrare contro dei colossi, tipo Honda, Yamaha, che veramente tengono a vincere il campionato MotoGP. Nella superbike invece le case giapponesi sono impegnate in maniera semi-ufficiale, quindi tanto interesse non c'è. Ricordiamo che la Ducati produce soltanto 40.000 moto. Andrà a scontrarsi con la Honda che ne produce quasi 10 milioni, con la Yamaha che ne produce 6 milioni. È una lotta impari. Altro che Davide contro Golia. Ma sicuramente, anche perché la Honda quest'anno sembra che ci si sia messa col pensiero, insomma, sembra essere tornata ai primi anni della MotoGP, ecco, quando correva Valentino. Sembra che quest'anno la Honda abbia tirato fuori questa moto che va molto bene, va bene con tutti i suoi piloti, quindi sicuramente avremo anche un bel campionato MotoGP. Chiudiamo noi il discorso Superbike e poi passiamo a quello MotoGP. Sì, la Ducati nell'ambito Superbike, evidentemente i loro vertici hanno presunto che sia più redditizio impegnarsi in MotoGP, diciamo che il nome Valentino Russi possa creargli maggiore pubblicità rispetto a continuare ad impegnarsi ufficialmente nel mondiale Superbike. Questo però non va ad inficiare quella che è stata la politica costruttiva delle moto di Borgo Panigale, dalla pista direttamente dalla pista alla strada? Ma da appassionato... I MotoGP corrono dei prototipi, non delle derivate di serie. Sì, da appassionato in effetti viene da pensare questo e ci sono tanti appassionati proprio della marca bolognese che sono, diciamo, delusi di questa scelta. Però secondo me con l'andare del tempo, soprattutto se Valentino Russi effettivamente saprà farsi valere anche con la Ducati, potrebbe consolare. Allora, cosa mi dici dei tre test dove Valentino è diventato all'improvviso Lamentino? Sembrava un po' viaggi dei tempi che furono. Eh, quella... Allora, permettimi, Valentino è un buon fine collaudatore oppure uno come tanti che senza la moto, senza le gomme non è capace di fare la differenza? No, secondo me Valentino è sempre comunque capace di fare la differenza. Sì, un secondo e otto da Stoner, bella differenza. Il punto è un altro è che probabilmente la Ducati non ha i mezzi e le possibilità, appunto, quello che diciamo prima, delle case giapponese. Allora cade tutto il castello che Guido Mede e Nico Cereghini hanno costruito in questi anni, che Valentino ha un secondo nascosto nel polso. Evidentemente un secondo non basta perché ricordo ai nostri telespettatori che negli ultimi test la Ducati non solo è stata tra le non protagoniste, dove la Honda invece ha piazzato quattro piloti nelle prime quattro posizioni, ma tra l'altro De Pugnier, che è il suo compagno di squadra con moto non ufficiale Ducati, che è stato davanti. Sì, è andato meglio. Vabbè, diciamo il... E non mi dire che è il problema della spalla, perché vedi cosa ha fatto Melandri in Superbike? No, no, infatti, questo dicevo, Melandri che sembrava finito, in Superbike adesso sembra rinascere. Ma gliel'hanno putata la spalla russa? No, no. Secondo me il punto è quello, è che comunque il pilota, per quanto bravo sia, deve essere supportato dalla moto. Allora erano vere quelle storie sulle gomme Michelin confezionate per lui, il sabato sera che arrivava la domenica, quando G. Bernau si lamentava, perché poi non è che si lamentava solo Biaggi, attenzione, si sono lamentati G. Bernau, si è lamentato Capirossi, lo stesso Stoner, è stato aiutato, dai diciamo. Sì, sì, ma sicuramente Valentino, essendo diciamo il pilota, come dire, mediaticamente più rappresentativo, sicuramente ha avuto le chance migliori rispetto a tutti gli altri. Ma lo sai che i fenomeni mediatici sono anche creati ad hoc per vendere un prodotto. Certo, diciamo Valentino in questa situazione ha giocato bene le sue carte, come lo ha fatto Valentino, lo avrebbe fatto chiunque nella sua posizione. Certo, assolutamente, soltanto che chiunque nella sua posizione avrebbe avuto almeno il coraggio di dire, è colpa mia, non soltanto della moto. Certamente, in effetti lui adesso con questi test è stato diciamo abbastanza critico con la moto. Non doveva indirizzare lui nello sviluppo, cioè cosa critichi te stesso? Eh, vabbè, lui dice, lamenta di non trovare il setup, però d'altra parte la Ducati c'è da dire che non è mai stata una moto facile. Non è vero, perché Stoner, allora, la Ducati che non sia una moto facile, questo è risaputo, Melandri, a Ceca, allo stesso Capirossi, però c'era un pilota, perché poi dopo, dobbiamo dirla tutta, c'era un pilota che si chiama Chiesi Stoner, che con la Ducati non solo c'è vinto un mondiale, ma ha sfiorato per due volte il titolo, è che l'anno scorso tra mille guai ha vinto tre gare, se non sbaglio, quindi un pilotino dal buon polso. Sì, sì, sì. Più che fai lo lascia andare via, perché devi prendere il fenomeno mediatico, il re della comunicazione, ma se non vinci, ma cosa comunichi, cosa vieni? Secondo me in questo caso probabilmente il marketing ha sopra avanzato quelli che sono magari gli interessi sportivi. Io voglio essere cattivo, in questo caso Valentino è scappato dalla Yamaha, perché a parità di moto le ha prese da un certo Lorenzo. Sicuramente in Yamaha per Valentino la situazione era diventata scomoda, perché prima era l'indiscusso leader, ora la sua posizione era sicuramente messa in discussione, quindi è stata anche una sua convenienza allontanarsi rispetto a, diciamo, andando in Ducati ha accolto, come dire, due piccioni con una fava. Ha lasciato una situazione scomoda ed è di nuovo tornato prima guida, con tanto di battaggio mediatico per quello che riguarda il binomio italiano, moto, pilota. Però secondo me dobbiamo aspettare. Allora io ti invito a rivenire qui nei nostri studi, magari per commentare qualche gara della MotoCP, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Va bene, un saluto a tutti i telespettatori. Io ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.